I prodotti della dieta mediterranea, il Made in Italy, sono altamente certificati. Noi abbiamo uno dei migliori ispettorati al mondo per il controllo della qualità e della salubrità dei prodotti che arrivano dal campo alla tavola dei consumatori. Per quanto riguarda gli alimenti che arrivano nella disponibilità dei consumatori, sono altamente certificati e non c'è bisogno ed è ignobile da parte di qualche agente nei paesi esteri che chiede certificazione aggiuntiva. La certificazione esistente è assolutamente sufficiente a garantire la salute dei cittadini. Non può essere utilizzata una fase così delicata anche per la salute dei cittadini per mettere in atto azioni di concorrenza sleale, perché di questo si tratta. C'è qualcuno che pensa in questo momento di approfittare per coprire spazi di mercato e per sostituire i prodotti del Made in Italy, l'originale, con la contraffazione. Noi questo non lo possiamo e non lo dobbiamo permettere.